Stiamo godendo da morire! San Giovannese batte alto fascio 2 a 0 e sono dieci risultati utili consecutivi, il primo tempo più bello dell'anno. Si ok, il gol di Massai, ma il gol di Rosondo, con quello scambio in un campo infame. Quei gol, ragazzi, sembra una cavolata a quei gol in un campo di genere e sono dei gol. Non vediamo che ci stiamo avvicinando, ma perché i risultati a parte uno sono andati bene per noi. Io volevo dedicare questa vittoria almeno io nel mio piccolo a Francesco e a tutta la sua famiglia. Domainia, mi raccomando, tutti presenti, sottoscritto compreso in quel giro di Santepulcro. L'angolo futsal. Diciamo che abbiamo passato una settimana dove non ci siamo annoiati, perché le dimissioni di Diaz che, ripeto, sono arrivati all'improvviso, hanno un po' dato uno scossone all'ambiente. Abbiamo battuto per 5-3 il Real Casagrande in casa. A Paso c'è la partita a Prato e io sarò presente. Loro andranno a giocare ai play-off e chissà se... se... non dico nulla, ma è tutto ancora in gioco. Ciao a tutti e ci vediamo sia sabato che domenica.